Ciao ragazzi e ragazze, un po' che non ci sentiamo con gli uncut ma è sabato quindi uncut, tra l'altro domani Pasqua quindi chiaramente non credo uscirà un video ma vedremo, nel frattempo usciranno sicuramente delle live in cui gioco a GeoGuessr una anche oggi pomeriggio di nuovo, quindi se volete sapere come entrare su StreamYard, iscrivetevi al canale YouTube e ci sarà il link non solo per guardarlo alla diretta ma anche il link di StreamYard per entrare nella live con me Twitch e YouTube, finché non ho tanta gente su Twitch così lo vedete anche voi e poi, e poi, e poi, e poi, ah sì, nel mio canale Telegram dove manderò direttamente il link per lo stream GeoGuessr è un gioco bellissimo che praticamente consiste nel indovinare dei posti che non sono sempre città sono anche delle campagne, è molto divertente dunque, video di oggi uncut, credo numero 73 o 74 insomma un uncut che manca da un po', un uncut che manca da un po' perché a parte non avere davvero oggettivamente avuto tempo di fare un uncut, al di là del turbinio lavorativo, purtroppo, come forse state sentendo ho bronchite, non ho il covid, ho una bronchite che non avevo da circa sei anni che però, insomma, è stato il famoso punto di svolta del 2015 scusatemi quando, quando mi sono, praticamente, è nato lo stop whining, è nato tutta una serie di pezzi di filosofia della mia vita ora, anche questa esperienza, questa bronchite pazzesca che mi sta costringendo a casa da un lato poi non è che andremo in molti altri posti, però non mi fa neanche uscire col cane francamente mi fa sentire molto in colpa e dall'altro mi fa ritrovare in una situazione in cui devo comunque cambiare un po' le mie abitudini fermarmi un attimo e sentirmi naturalmente più debole io ho cominciato a sentirmi debole circa da dopo il mio compleanno e quindi diciamo che sono più o meno una ventina di giorni ecco, che sto così, con il viaggio a Catania in mezzo cioè, ho fatto ad alti e bassi, ecco non ho la febbre, quindi non ho, non è esattamente la bronchite che ho avuto nel 2015 ma in forma leggermente diversa, è qualcosa che mi è arrivata in modo simile mia madre ha notato questa cosa, la mia psicologa anche in modo diverso e probabilmente, diciamo, ci sono delle congiunture temporali, spaziali ma soprattutto temporali, che mi stanno facendo riflettere moltissimo o forse non sto riflettendo abbastanza su ciò che sta cambiando attorno a me molto concentrata a rincorrere e abbracciare il cambiamento probabilmente non mi sto gestendo emotivamente e sufficientemente bene in questo turbinio sono stati mesi assolutamente intensi per la cosa di Clubhouse che per ora si è un po' stabilizzata ma crescerà in modo esponenziale quando tra qualche settimana perché queste sono le tempistiche che hanno dato sarà aperto ad Android stabilizzando non vuol dire che si lavora meno semplicemente c'è meno accelerazione e si è più su una curva stabile di crescita che chiaramente una moto uniformemente accelerato non è stato la parte, diciamo, quindi lavorativa sicuramente la fa da padrona in questo momento la grande, grandi, non tanto cambiamenti ma grande necessità di sedermi un attimo e riflettere anche dopo quest'anno di pandemia c'è sicuramente non c'è più tanto sulla parte personale nel senso che io alle volte ho sofferto moltissimo da un punto di vista personale per esempio come la prima volta che ho avuto la prima volta no la volta che ho avuto la bronchite nel 2015 la prima è stata in quarta superiore è stato un momento altrettanto catartico decisamente legata alla parte personale questa è più legata alla parte professionale nel senso che a livello personale credo di avere immagazzinato delle certezze delle persone al mio fianco a base delle azioni ecco, abbastanza solide sia in famiglia che fuori e mi ritengo anche molto fortunata per questo penso sia una questione assolutamente professionale per la quale io non sto risolvendo le mie emozioni a sufficienza e succede, va riconosciuto sono tornata in uno stato di ansia per delle stronzate che non riguardano nello specifico ciò che mi triggerava come disturbo ossessivo compulsivo ma è comunque disturbo ossessivo compulsivo quindi sono in un momento di difficoltà in più sto prendendo gli antibiotici quindi immaginate la grande festa che sta succedendo e sta accadendo nel mio corpo in questo momento e faccio questo video per fare un coming out da questo punto di vista ma soprattutto perché è necessario che in qualche momento ma non so perché in un certo senso ve lo devo ma perché è giusto che venga raccontato oggi ero in una room su Clubhouse in spagnolo in cui si di sudamericani in cui si parlava di instagram di linkedin di raccontare se stessi nelle reti sociali nei social media si chiamano reti sociali in spagnolo e si parlava di questo e si diceva ah sì no bisogna far vedere la propria verità eccetera eccetera ecco qualcuno diceva no sai a livello personale io non voglio farmi vedere preferisco farmi vedere a livello professionale considerare esclusivamente l'aspetto professionale ecco io credo che questa cosa non sia possibile non è possibile perché non siamo due persone diverse allora abbiamo la scelta di tacere su alcune faccende personali ed è tutto un altro discorso non è che tutti dobbiamo essere Chiara Ferragni che tra l'altro ha pure la sua privacy da un certo punto di vista e noi non lo possiamo sapere dall'altro non lo sappiamo perché condivide molte cose dall'altro però credo che qualcosa di tutti venga fuori è venuto fuori di Chiara Ferragni e viene fuori di chiunque da chiunque si accenni a mostrarsi su internet per qualche motivo e quindi lo sapete io vivo questa come una grande responsabilità e preferisco avere questa visibilità con una certa tipologia di consapevolezza detto ciò faccio questo video anche un po' per esorcizzare quello che sto sentendo e normalizzarlo e perché sto cercando anche delle strade per cui mi sono data forse delle tempistiche anche troppo lunghe per trovare forse veramente un momento in cui c'è bisogno di uno scatto di fiducia in me stessa in quello che ho costruito oltre che l'estrema fiducia che io ho di tutte le persone che ho attorno e delle circostanze delle strutture che mi sono creata attorno probabilmente c'è la primavera di mezzo probabilmente c'è anche la ripartenza di mezzo io seguo molto gli Stati Uniti sono ripartiti a sprombattuto e lasciamo stare Australia e Nuova Zelanda che erano partiti ancora prima UK sono molto vicini lo stanno facendo quindi è molto impressionante credo che avremo veramente un paio di mesi in cui ci faremo ancora molte domande poi non dico che arriveranno le risposte ma sicuramente insomma il numero dei vaccinati salirà a meno che non ci sia davvero una catastrofe e quindi chiaramente il virus avrà meno impatto adesso a tutto aprile sarà zona arancione purtroppo da maggio secondo me ci metteranno in giallo nazionale a meno di numeri ovviamente cioè come minimo a meno di numeri chiaramente i fortunati saranno quelli con le zone bianche speriamo prima o poi di arrivarci non so poi dopo le perdiamo come l'ha fatto la Sardegna che è ancora allucinante pensarlo in un paio in una in una regione con una densità abitativa in realtà così bassa però spero che c'entri anche questo perché riuscirei a giustificarlo meglio come sempre fatemi sapere come state questa è più una pagina di diario che di insegnamento rispetto ai soliti uncut prometto che cercherò di essere un pochino più costante ma lo sapete che a volte ho dei momenti in cui lo sono sempre stata sui video ma sugli uncut ci sono volte in cui davvero o mi è veramente impossibile perché di sabato solitamente non li pre-registro io sto registrando questo adesso quando lo posterò posto una connessione pessima che è anche uno dei motivi per cui non riesco a postare in modo costante e niente vi voglio dire che vi voglio bene non perché mi dite che sono brava o che sono una cogliona ma perché mi aiutate veramente a normalizzare un sacco di cose che vivo che in questo periodo stanno tornando come quando ero bambina o adolescente e che quindi le varie forme che ha il nostro corpo di farci vedere le cose sono sempre curiose ma ma sono comuni e soprattutto sono solo delle forme degli specchi di qualcosa di molto molto più profondo magari ne riparleremo anzi vi darò update vi darò update sabato prossimo e per ora grazie non voglio solo dieci minuti che è già troppo seguitemi nei live di Geogaster che ci divertiamo ciao stop whining